Martin, perché vieni al dito schippa? Perché mi rilasso! Hai un video! Mino, posso andare al mare? E se vuoi te ne penti! Uno, due, tre! Siamo oggi alla preparazione di Kati che sta preparata. Non c'è il legno? È un falso legno questo! Guarda il microfono del mio collino! Il capocchino è di gomma! Zucchero di canna! Zucchero di canna? Zucchero di canna! Incredibile, ma vero siamo al dito schippa! E ci sono i due assistenti Mario e Martin che stanno verificando se Kati effettivamente fa bene la caipirigna! Ragazzi, oggi ho comprato un paio di occhiali vuoti! E se vuoi te ne penti! Oh! Sugar face! Oh! Giusto! Ci vuoi! What ci vuoi! Eccola! E lei è la regina delle polpette! E lei! Paghi, non eri tu che volevi il latte macchiato? Certo! Ti ringrazio tantissimo! Chi me la ciappa? Prego, prego! Ti piacerebbe! Ecco Mario che sta osservando con grande interesse Martin collabora in maniera perfetta Vedete la fatica di Cati? Lo zucchero di canna Non è ancora finita perché le regine che cosa devono avere? E' quella la corona? Ebbene corona sia! Le regine verranno incronate in questo momento Sto attenzionando il microfono oggi La musica, la musica Fondo di rito grazie Mettere bene la colla La musica 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 Mino Mino Ti piacerebbe Vabbè ma non si fa così però Prego Oh Mino sei una canale What you worry 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 Bye Why Ma Fin In La musica Pa gentilissima, cortesissima, simpaticissima, felicissima, simpaticissima, sublimissima, bellissima non sai neanche scrivere, ma c'è questo pochino è bellissima questa, vieni vicino sono pazzo per il tito schifa 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 sono pazzo di natura e sono pazzo per il tito sono pazzo di... cosa? cosa? dai dai sono pazzo, sono pazzo per il tito 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 il vestito schifa sono pazzo per il tito 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 sono pazzo per il tito